Una sesta persona è stata arrestata dopo le 5 di ieri dai carabinieri del comando provinciale di Taranto accusate a vario titolo di estorsione e rapina aggravata a lesioni personali nei confronti di un albergatore di San Pietro in Bevagna nella Marina di Manduria. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 24 giugno scorso tre degli indagati armati, due di pistola ed un terzo di un'arma bianca vestiti da Annetturbini, avrebbero fatto irruzione nel domicilio della vittima mentre riposava, minacciandolo e facendosi consegnare gioielli e danaro per un valore complessivo superiore ai 50.000 euro. L'uomo che avrebbe approfittato di un momento di distrazione per darsi alla fuga sarebbe stato raggiunto, scaraventato a terra, colpito ripetutamente, riportando la frattura di un polso. Tre dei sei avrebbero lavorato precedentemente nella struttura e avendo a disposizione le chiavi della stessa avrebbero avuto un ruolo chiave nel furto di sei casse e di un sistema di amplificazione dall'ingente valore economico. L'impianto audio sarebbe poi stato restituito con la dinamica del classico cavallo di ritorno dopo il pagamento di una somma di danaro. L'indagine svolta dal nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto è stata coordinata dalla Procura della Repubblica.